Nicola Fratoianni, segretario nazionale sinistra italiana. Lista comune o primi passi e dopo lista comune magari anche partito della sinistra comune? Credo che l'obiettivo di una lista unica della sinistra di questo paese sia un obiettivo che va perseguito con grande forza e grande determinazione. Naturalmente per farlo servono delle condizioni perfino banali, serve la disponibilità di tutti a discutere la reale possibilità di costruire un programma convergente e io credo che questa possibilità ci sia, la disponibilità di tutti a mettere a disposizione di un percorso democratico la rappresentanza politica di questa proposta, le forme e le modi con cui renderla partecipata, attrattiva, attraversabile da parte della stragrande maggioranza dei cittadini che oggi chiedono una proposta efficace perché non si sentono rappresentati da nessuna delle forze che oggi compongono questo arcipelago. Dunque io credo che dobbiamo dare molta forza a un percorso che metta al centro l'ipotesi di piattaforma, che costruisca elementi di partecipazione ma che nello stesso tempo abbia nell'obiettivo dell'unità un punto di riferimento molto importante. Grazie. Grazie.